Nella nostra conversazione con il notaio Giorgia Manzini oggi parliamo di imposta di successione e di un caso particolare, il defunto residente all'estero ma proprietario di immobili in Italia. Quali sono i criteri di collegamento territoriali nell'imposta di successione in sostanza se si muore all'estero? Cosa succede, dottoressa? Parliamo tanto di Europa, può succedere è consueto che con la circolazione dei beni e delle persone le famiglie possano avere beni sparsi nei vari paesi, questo può succedere e la normativa fiscale se ne è dovuta occupare. Come funziona in Italia? Le alterne vicende dell'imposta di successione le ricordiamo tutti. L'imposta fu abrogata nei primi anni 2000 dal governo Berlusconi, fura introdotta l'imposta di successione dal governo Prodi nel 2006, prevedendo però alcuni correttivi molto importanti, cioè delle franchigie molto alte per i casi più frequenti che sono quelli all'interno della famiglia, in cui muore un genitore e comunque si eredita in linea retta. Ci sono franchigie anche fra fratelli. Quindi, alla resa dei conti, l'imposta di successione in Italia è una delle più basse d'Europa, proprio grazie anche a queste franchigie e anche alle aliquote che sono previste al di sopra della franchigia, che è quella zona franca in cui non si paga l'imposta. Come funziona? Con i beni all'estero o con i soggetti che risiedevano all'estero? Se ne è occupata la normativa, era introdotta appunto nel 2006, il decreto 346 del 90, che ha stabilito il principio dell'imposizione globale per il defunto che risiedeva in Italia. Quindi a questo defunto vengono tassati tutti i beni e i diritti ovunque esistenti, anche nello Stato estero. Diversamente, se il defunto non risiedeva in Italia, l'imposizione fiscale applica il principio della territorialità, e cioè vengono tassati in Italia i beni che si trovano in Italia. Quale sarà l'agenzia delle entrate competente per la presentazione della denuncia di successione? La dichiarazione di successione, sappiamo che è quell'obbligo fiscale che entro un anno dalla morte del soggetto deve essere presentata alla pubblica amministrazione per il pagamento delle imposte relative. Senza la dichiarazione di successione presentata e registrata, non si possono vendere i beni ereditari, quindi non si può andare dal notaio a vendere una casa ereditata. Ecco, per i soggetti non residenti all'estero, si tratterà di presentare questa dichiarazione di successione presso l'ufficio di Roma. Ma si corre il rischio di una doppia imposizione, cioè di dover pagare l'imposta di successione due volte, sia nello stato di residenza che in quello in cui si trovano concretamente i beni? Questo è un rischio concreto che è stato risolto dalla normativa nazionale italiana, dall'articolo 26 di questo decreto 346 del 90, e poi sono state previste apposite convenzioni internazionali con paesi che sono in numero abbastanza esiguo. Comunque, in Italia vige il principio, questo articolo 26, che cosa dice? Che prevede la detrazione delle imposte pagate in uno stato estero, in dipendenza di una successione in relazione ai beni esistenti nello stato estero, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione dei trattati internazionali. Cosa significa? Che in Italia per l'imposta di successione non si corre il rischio della doppia imposizione fiscale, cioè di pagare la tassa due volte, perché questa norma prevede un credito di imposta, quindi una possibilità di detrazione dell'imposta già pagata nello stato estero. Questo vale per i soggetti residenti. Per i soggetti non residenti il discorso è diverso. Le convenzioni internazionali che prevedono questi meccanismi per evitare la doppia imposizione fiscale sono state stipulate con la Danimarca, la Francia, la Gran Bretagna, la Grecia, gli Stati Uniti, Israele e la Svezia. Quindi, come si vede, i paesi sono pochi. Normalmente occorre rifarsi, caso per caso, alla normativa del singolo paese. Per calcolare la franchigia di cui parlava in Italia ai fini dell'imposta di successione si deve tenere conto delle donazioni effettuate all'estero aventi ad oggetto beni esteri? La franchigia è quella zona franca, è un valore entro il quale non si paga l'imposta di successione in Italia. Per fare un esempio, quando si eredita dal padre la franchigia è di un milione di euro per ogni erede. Quando si eredita fra fratelli la franchigia è di 100 mila euro. Poi sono previste franchigie per gli erediche e portatori di handicap, eccetera. Quindi è un limite di valore oltre il quale vengono applicate le alicote dell'imposta. Per calcolare questa franchigia però occorre fare un coacervo, cioè un insieme delle donazioni ricevute dal defunto quando era in vita, perché altrimenti sarebbe facile eludere la normativa donando i propri beni artatamente e ripetutamente per poi farsi trovare nulla tenenti alla propria morte. In questo coacervo è stato chiarito che non vanno calcolate le donazioni effettuate dal defunto all'estero aventi ad oggetto beni esteri. Mio padre mi ha regalato una casa a Parigi. Ecco, questa donazione non è rilevante ai fini della determinazione del coacervo perché non ha scontato le imposte in Italia, quindi è al di fuori del nostro meccanismo di calcolo. Dall'imposta di successione pagata in Italia si possono detrarre le imposte pagate invece all'estero? Abbiamo visto che questo è il problema del credito di imposta, ossia del meccanismo della detrazione che è stato risolto positivamente nella nostra normativa nazionale dall'articolo 26 del decreto 346 del 90 e cioè questa norma dice che l'imposta pagata all'estero viene detratta in proporzione, secondo i criteri stabiliti dalla legge, dall'imposta che dobbiamo pagare in Italia. Questo vale però solo se siamo residenti. Se non siamo residenti in Italia, se il defunto non è residente in Italia, si applica il principio della territorialità, cioè del locus reisite, nel senso che vale l'imposizione fiscale del paese in cui sono situati i beni. E dunque in questo caso il rischio della doppia imposizione può essere concreto perché ci sono paesi che non prevedono il credito di imposta. E chi ha casa all'estero ma risiede in Italia, quante tasse paga in vita? Questo è un problema molto sentito attualmente perché in questo caso dell'IRPEF, cioè non più dell'imposta di successione ma dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, la regola è quella della doppia imposizione, cioè si dovrebbe pagare in entrambi i paesi. Ci sono però anche qui convenzioni internazionali o meccanismi di credito di imposta, ma la regola è l'altra, quindi chi ha beni all'estero e risiede in Italia, finché in vita si troverà spesso a pagare le tasse in entrambi i paesi, a volte senza possibilità di poterle detrarre in Italia perché dipende dal paese in cui è situato l'immobile. Occorre poi nella dichiarazione dei redditi adempiere ad alcune formalità che sono richieste proprio da chi ha la proprietà di beni all'estero. In questo caso il reddito derivante dall'immobile situato all'estero non viene incluso fra il reddito fondiario ma nell'ambito dei redditi diversi. Sono tecnicismi della denuncia di successione, ma ricordiamoci appunto che la regola, ahimè, non essendo applicabile l'articolo 26 del decreto 346 del 90 che riguarda l'imposta di successione e donazione, è quella della doppia imposizione fiscale. Per chiudere, dottoressa Manzini, una curiosità, stando ovviamente alla sua esperienza. Sono molti i reggiani che possiedono immobili all'estero pur risiedendo in Italia, a Reggio Emilia? Non sono pochissimi perché negli anni scorsi, prima della crisi economica, naturalmente la situazione era diversa. Ci sono paesi in cui comprare immobili era conveniente, sono posti bellissimi, quindi in effetti capita, capita spesso e vengono a lamentarsi su questa doppia imposizione fiscale, sul fatto che pagano le tasse su quell'immobile sia in Italia che nel paese in cui è situato, ma purtroppo c'è poco da fare.